Chi c'è? Passi a unirmi a voi! Che schifo! Miss Brutta! È stato inghiato! Scappiamo! Brutta e codarde! Principessa, se ne sono andate! Ma tu ti senti bella? Non sono io! Vai! Cavolo! La pubertà fa schifo! Chi è? Chi sei? Calma! Cos'è quello? Posso aiutarti se vuoi! Aiutarmi? Bene, andiamo! È ora di truccarsi! Voglio dire, può coprire questi brufoli? Un gioco da ragazzi! Ci occuperemo anche di quelli! È un po' strano! Ora applichiamo i cerotti! Oh, molto meglio! Questo ci tornerà utile! Davvero delizioso! Oh, delight! Guarda qui! Un vero spasso, vero? Cento su dieci! Anche per me? Dammi il bastone! Non avresti dovuto! Ai! Il mio occhio! Attacco al mascellone! Roar! Caia! Ci stiamo comportando in modo strano! Abbiate paura! Non farlo! Oh, cavolo! È ora voi! Ragazzi, premete su mi piace per battere Cain! Forza! Forza! Ci siamo quasi! Venite da papà! C'è la mano sta prendendo vita! Oh, sì! Oh, no! Lo spettacolo è finito! No! Oh, sì! Ehi! Bastone! Risparmiaci! Guarda un po'! Cain! Ma che peccato! Voglio dire, ci fai pietà! Il trucco è pronto! E ora? I capelli! Hmm! Che succede? Siediti! Vedrai! Ta-da! Mi devo allenare con i pugni? Ci sto! Ferma! No! È per i capelli! È ciò che pensavo! Alziamo il livello di stile! Che ne dici di un caschetto? Hmm! Dovrei rischiare! No! No! Va bene! E questo? Farò in modo che sia alla moda! Non ne sono certa! Abbiamo un'altra stagione da girare! Scusa! C'è altro? Una cosa ci sarebbe! Bene! Questo è per te! Io mi sraio! Allora, dov'è? Mister Delight! Sono così felice! Ah, davvero? Sono così felice per il cioccolato! Uh, ragazzi! Commentate qui sotto se vi piace il cioccolato! Sei il tuo, il mio cioccolato! Ah, è finito! Ne prendo altro! Ai! Cos'è questo rumore? Mangio sempre sotto stress? Oh no! E come stai? Bene! Bene! Allora, ciao! Mi ha dato un like! Adorabile! Delight! Dove sei? Scomparsa? Cosa faccio? Lo so! Devo fare un disegno! Le mie lezioni di arte stanno finalmente dando i loro frutti! Cos'è qui? Come va? Hai uno? Ma che hai alla testa? Uno scontro! Ma a lui non importa di me! Stavo correndo lungo il corridoio come in una commedia romantica! All'improvviso! Mi sbatte lo sportello in faccia! Questa storia è dolorosa! Molto divertente, Pobby! Scusa! In fondo, sono un clown! Sceglierò un top per te! Lo so! La prossima top model di Trum Trum! Non vedo l'ora di iniziare la sfilata! Resta qui! Ecco fatto! Sorredi! Gira! In senso orario? In senso anti-orario? Bene! Oh, va bene così! Chiudi gli occhi, Fifi! Non guardare! Ok! Ti piace? No, paparazzi! Non invadete la mia privacy! Niente foto! Tesoro! Non sei Kylie Jenner! Ah! Non importa! Niente autografi! Che ne pensi di questo? Allora! Il tuo top è di alto livello! Gli piacerà! Pallice in su da parte mia! Ok! Ha dato un like! Sorella, ce la faremo! La parte superiore è pronta! Com'è il sotto? Pessimo! Mi serve una nuova gonna! È un'emergenza! Aspetta! Calmati! Fai un bel respiro! Ecco! Non questa! Non ti piace? Non c'è problema! Arrivo! Ma dov'è? Eccomi! E questa? La sistemerò! Oh! Non colpirmi! Prendi questo! Ecco! Come ti sembra? Oh! Fifi! Cosa stai facendo? Piano! Oh! Redammela! Questa? I bucchi sono fuori moda! Ecco! Non muoverti! Ci metto un minuto! È spaventoso! Wow! Così veloce! Mi piace! Ora sì che si ragiona! La gonna dei miei sogni è fatta! Abbiamo vinto! Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è il matrimonio! Che succede? Un matrimonio elegante! Ehm... Fermati! Indosso un abito da sposa! Lui mi porge il bouquet! Io lo lancio ai miei amici! Ups! E poi... Ci diamo un bacio! Ma lui bacia il cioccolato e lo divora in pochi morsi! Ehi! E non lo condivide nemmeno! Dove stai andando? Ho il cuore spezzato! Che sopapera! Ehi, Delight! Cosa? Esatto! Un braccialetto! Mi aiuti! Ehm... No! Fa un po' caldo, vero? Ah sì! Pensaci meglio! Delight, smettila di essere stupida! Tu smetti di essere stupida! Ehm... E' andata! Non così in fretta! Ok, va bene! Ti farò un braccialetto, maniaca! Questo è l'atteggiamento! Mettiti all'opera! Matite? Troppe domande! Aspetta! Taglio le matite con un taglierino! Spregati! Ehi! Ci vuole davvero un po' di impegno! Taglia il filo! Taglia il filo! Fai dei buchi nelle matite e nel filo! Infila delle perline luminose e... Voilà! Mi piace! E' proprio il mio genere! Il mio desiderio si è avverato! Guarda qui! Aspetta! Guarda cosa posso fare! Sta meglio a me che a Kane! Kane! Ma no! Sono io! Pommi! Sei sicura? Tada! Un po' di magia? Wow! Ecco il materiale per gli orecchini! Ok! Ti credo! Fai una pausa! Facciamo a pezzi le matite! Ancora! 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 Lo adoro! E ora le catenine! Rifiniamole! Ora è perfetto! Orecchini alla delight fatti! Cancellati dalla lista! Pommi! Che ne pensi? Fammi dare un'occhiata! Il collo è un po' spoglio! Centro! Si appena alle unghie! Wow! Non puoi aiutarmi con le scarpe? Camode! Andiamo! No! Scherzo! Queste? Oh no! Di classe? L'outfit è pronto! Andiamo! Ehi! Non avere fretta! Cammina! Con i tacchi? Ma certo! Ok! Pensavo che sarebbe stato più facile! Forza amica mia! Eccolo! Stai bene? Sì! Più o meno! Sono contento! Aspetta! Il mio cioccolato! Non va bene! No! Ehi! Dove vai? Ma che problema? Ai! Mister Life! Nessuno si preoccupa di me! Nemmeno tu! È tutto uno spreco! Deloitte! E ora? Idea! Perfetto! Mister e Miss Deloitte! Cioccolato! E amore! La mia sofferenza non avrà fine! Era qui! Da qualche parte! No! Non ora! Oh! Il cioccolato! Facile! Grazie, Ragata! È lui! Ragata! Guarda un po'! Che bello, ragazzo! Ehi! Perché resti in mezzo? Ecco! La sofferenza è finita! Dov'è, Tommy? E Kane è qui! Ho chiuso! Ta-da! Cosa? Un regalo di compleanno! Per me? È il tuo compleanno? Sì! Grazie! Lo scherzo è andato bene! Non mi piace questo regalo! Non importa! Vieni alla mia festa? Wow! Chi altro è invitato? Jax! Ehi là! Ragata! Ehi, bello! Devo andare! Vengo anch'io! Se n'è andato di nuovo! Cos'è? Pommi, vieni! Diventeremo regine del college! Ma sei pazza! Non hai scelta! Cos'è questo rumore? Oh no! È Coffmo! Ti prego, non farci del male! Scappa! Ma dove andate? Vi ho portato dei fiori! Essere la reginetta del college è fantastico! Abbiamo un aspetto orribile! Per fortuna si può rimediare! Questo vestito non va bene! Cosa? Cosa mi metto? Non va bene niente! Pommi! E questo? Cosa persa! Pommi, calma! Datti una regolata! Raddrizzati! Tanto non funzionerà! Ho un'idea! Guarda! È Jax! Non è d'aiuto! Ups! Che cos'è? Un piano! Un piano di restyling! Il trucco è la prima cosa da fare! Iniziamo! Il tempo inizia ora! Jax, Kane, è solo per voi! È un sacco di trucco! Cosa me ne faccio? Ehi, Pommi! Stai bene? Oh, cavolo! So cosa fare! Pommi, svegliati! Oh, cos'è stato? Il trucco è praticamente un mistero per me! Pommi, non piangere! Pommi, non piangere! Posso contribuire anch'io! Prima, lavati la faccia! Ecco! Ok, è fattibile! Wow! È divertente! Accidenti! Le bolle sono ovunque! Pommi, ferma! Oh, ragazzi! Premete su mi piace per aiutarci a scendere! Per favore! Pommi, è tutta colpa delle tue bolle! Ti laverò via il trucco io stessa! Bene! La tua palle è davvero luminosa! E adesso? Ragata? Ok, let's go! Fondotinta Cipria Fard È l'ora dell'ombretto! Iniziamo con la palpebra superiore Aggiungiamo l'illuminante vicino alle ciglia Mettiamo l'eyeliner E aggiungiamo le ciglia E gli strass Buu! Scherzo! Hai capito cosa fare? Credo di sì! Ombretto Illuminante Palpebra inferiore Eyeliner Eyeliner Ciglia E strass Devo solo fare le labbra Ecco! E la prima casella è stata spuntata Suppongo servano capelli più lunghi Oh sì! Ecco di cosa sto parlando! E ora un fiocco! Un altro! Queste ciocchi andranno in una treccina Decorata con anellina Decorata con anellini Fantastico! Come ti sembra? Carino! Ho voglia di stendere i miei riccioli Ecco! Ora un mucchio di forcini E un fiocco! No! Questo è troppo semplice! Solo i bottoni possono salvare la situazione! Wow! Cospargiamo di brillantini E il fiocco è pronto! Ottimo! Le acconciature sono pronte! Dovremmo andare all'università! Io non vado da nessuna parte! Sei impazzita? Andiamo! Ai! Ci siamo! Non ci credo! È Jax! È Kane! Pommy! Torna indietro! Tu vieni con me! Non lo farò! Invece sì! Oh! Oh! Mi dispiace! Il mio dente! Ops! Dov'è il mio occhio? E se invece usassi un bottone? Assolutamente no! E in realtà potrebbe essere carino! I miei inviti! Ti aiuto io! Dov'è il mio occhio? E questo è l'ultimo! Wow! Lo sapevo! Dov'è il mio occhio? Lo prendo io? No! Ridammelo! Come vuoi! Puoi tenerlo! All'altro occhio! Ops! Tutto bene! Eccoli entrambi! Che cos'è? Un invito? Lo voglio anch'io! Grazie! Che cos'è? Fregata! Non è divertente! Andremo alla festa! Dobbiamo fare in fretta! Ci servono abiti da sera! Questi potrebbero andare bene! Qualcuno suona alla porta! Vediamo! Nessuno! È strano! Questi li prendo io! I nostri vestiti! Sono spariti! È finita per noi! Mi piace molto questo vestito! Lo proverò! Bello! Io invece non ho un vestito! Cercherò in rete! Prova! È uno yo-yo! Non è il mio genere! È un vestito davvero strano! No! Questo è perfetto! Un corsetto sarà la ciliegina sulla torta! Lo faccio in un secondo! Decore il corsetto con diversi bottoni! Oh, wow! Eccolo! Favoloso! Cosa è? Bruder! Cosa è? E con i vestiti abbiamo finito! Ah! Ok! Jax! Amore mio! Solo un minuto! Ho bisogno di un regalo! Si innamorerà subito di me! Ottima osservazione! Mettite al lavoro! Cosa posso regalare a Jax? Oh, Pony! Il miglior regalo di sempre! Jax! Sarai l'unica con cui ballerò! Tadam! 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 Ah! Ok! Il prossimo passo sono gli orecchini! No! I guanti! Gli orecchini! Guanti! Ah! Non importa! Può piangere! Bene! Blu o rosso? Blu! Tagliamo! Sì! Ha funzionato! Ora Cuccio! Perché così piccoli? Ok! Ti aiuto io! Una pompa! Devo fare letteralmente tutto io? Li faremo più grandi! Ups! Wow! Le adoro! Io cosa dovrei fare? Lo so io! Il mio berretto! Cosa? È una magia! Guarda! Devono essere da qualche parte! Presi! Guanti perfetti per un'amica perfetta! Wow! Sono in debito! Sono davvero carina! Un messaggio! La festa è in pieno svolgimento! Sbrigatevi! Non c'è tempo da perdere! La festa finirà presto! E siamo in ritardo! Calma! Possiamo ancora farcela! Ci siamo! Pronta? Sì! Andiamo! Ci siamo quasi! Non così in fretta! Che succede? Oh no! Siamo tornate come prima! Dov'è finito tutto? Non possiamo andare alla festa così! Calmati! Andiamo! Non possiamo farcela! Non ha senso! Wow! Da dove arriva questo tavolo? Ecco l'acqua micellare! lavati via il trucco! Il trucco è sparito! Ottimo lavoro! Il primo punto è stato fatto! Il prossimo passo è il trucco! Torno subito! Ragata è via da troppo tempo! Che cos'è? Oh! Ecco qualcosa che potrei usare come trucco! Il colore sembra strano! Proviamo! Uno! Due! E abbiamo il fard! Accidenti, Pommi! Ma che fai? Mi sta bene questo fard? No! Ecco il trucco! Oh! Ora ho capito! Hai idea di come questo rullo sia finito qui? Scrivilo qui sotto! Al lavoro! Fondotinta Ombretto Liner Glitter E la palpebra inferiore Alcuni brillantini agli angoli interni degli occhi Sciglia E il gioco è fatto! Ho fame! Le caramelle sono un ottimo spuntino! Posso farci anche le labbra? No! Non posso! Ok! Che rossetto sia! Ho finito! Caspita! Devo andare? Non ancora! Oh, Pommi! Che fretta c'è! Abbiamo già finito questa fase! Jax! Sto arrivando! Oh, Jax! Ce l'ho fatta per un pelo! Tutto per niente! Non mi amerà mai! E poi mai! Pommi, qual è il problema? Dimmelo! Ho cantato una canzone d'amore per lui e mi ha sbattuto la porta in faccia! Il più grande fiasco di sempre! Non sentirti in colpa! Hai una gomma da masticare nei capelli! Oh, l'ultima cosa che volevo! Stai calma! I cubetti di ghiaccio salveranno la situazione! Aspettiamo un po'! Togliamo la fastidiosa gomma! Piano! Pronti! E' sgostoso! Allora dei capelli! Vediamo! No! No! Questo mi piace! Presi! Fantastico! Ecco i nastrini! Wow! Mi tolgo i guanti e mi metto a lavorare! Taglia il nastro e crea un anello! Unisci le estremità! Fai due fiocchi e uniscili! Fissali con una forcina! E il gioco è fatto! Passiamo ai capelli! Metto i capelli a coda di cavallo! E aggiungo le forcine! Favoloso! Ho un regalino per te! Jax! Amore mio! Arriverai il giorno! Pommi! Vuoi sposarmi? Ma certo, Jax! Sono così felice! Tutti i miei sogni si sono avverati! Oh, Jax! Ops! Compito concluso! Un top! Dove ne trovo uno? Oh, perché urli? Ci penso io! Wow! Fenomenale! La domanda è... Cosa faccio con la gonda? Questa non va bene! Vado a rovistare tra le mie cose! Passo! Ehi! No! Perché c'è un salvagente? Basta! Non ho bisogno di un cappello! Oh? Ehi! Ah! Ecco! Niente di recente! Non piangere, Pommi! Grazie, amica! Troveremo una via d'uscita da Miretta! Ecco! Cerca nei cassetti della scrivania! Ops! Imbarazzante! La gonna sarà utile! La ravviverò con dei nastrini! Fatto! Pommi! What? Oh, che c'è? Non abbiamo ancora finito! Ecco il filo! E un pezzo di stoffa! Ah, grazie! Credo! Cucirò le maniche! E aggiungerò un nastro elastico! Che noia! Finalmente! Un po' di magia! Voilà! E le maniche sono pronte! Tutto a posto! Non posso crederci! Stanno andando alla grande! Non lo toltero! Dovrei rendere le cose più difficili per loro! Idea! Rovinerò la maglietta carina! Farò un pasticcio con qualcos'altro! No! Quello no! Oh, interessante! Fa male! La mia mano! Molto meglio! Ma che succede? Oh no! Qualcuno ha rovinato la mia bellissima maglietta! Smetti di piangere, ti prego! Ho un'idea fantastica! Taglio il colletto! Così andrà bene lo stesso! Provalo! Cosa? Cavolo! Dovremmo allungare i guanti il prima possibile! Sì! Ora sì che sono felice! Cos'era quello scricchiolio? Scusa, Pony! I tuoi orecchini! Oh no! So come farne un altro paio! Farò un tondino piatto con l'argilla! Scegliamo i colori! C'è un pennello! Possiamo creare un disegno! Aggiungiamo i gancini e gli orecchini sono pronti! Adorabili! Grazie! Ce l'abbiamo fatta davvero? Trucco? Check! Acconciatura? Check! Abito? Check! Tutti gli accessori al loro posto! Un regalo di compleanno! Check! Ragata, sbrigati! Fantastico! Ma... Quanti ospiti! Era l'unica opzione che avevi? Jax! Ma dov'è? Ehi, ragazzi! Jax! È arrivato! Aspetta! Accidenti! Stavo per cadere! Jax! Ti ho presa! Rilassati! Wow! Jax ha la testa tra le nuvole! Un ballo? Mi piacerebbe! Ma questa volta è reale! No! Solo sul mio cadavere! Cosa sta succedendo? Aiuto! È tutta colpa tua e delle tue buffonate! Rivoglio, Pony! Prima dovrai passare sul mio cadavere! Prendi questo! Ok, hai vinto! Ferma! È ora di tornare indietro! Non ti conviene scherzare con il nuvole! Sto per vomitare! Che schifo! Non ne ho più voglia! Voglio tornare a casa con mamma e papà! Dimenticali! Ora siamo noi, la tua nuova famiglia! Cosa? Oh no, no, no! Ora va molto meglio! Ultrasuoni! Le mie povere orecchie! Oh già, non ne ho! Ok, va bene! Silenzio! Se questo video tiene 20.000 like, vi faccio uscire! Yippee! Fantastico! Ah sì, non sento nulla! Evviva! Ah, credulone! So per certo che non raggiungerai 20.000 like! E resteranno qui per sempre a fare quello che gli dico! Nel mio digital circus! Cosa? Mi piace! Grazie mille! Beh, addio! Io entro per primo! Capisco, non è alla mia porta! Ragata, è per te! Vai, bambola! Non preoccuparti, ce la farai! Chiudi gli occhi, ti aiuto io! Vai! Ragata, tesoro! Ho una piccola sfida per te! Devi trovare tutti i pezzi di Zubol e metterli insieme! Hai 60 secondi per completarla! Cosa? Addio! Accidenti! È dappertutto! Dov'è il suo corpo? Ok, calma! Puoi farcela! Devo agire in fretta! Ecco, questa sarà la gamba! Presa! Non ce la farò mai! Dov'è il resto? Dov'è il resto? Oh, il corpo! Eccolo! Non riesco a raggiungerlo! Wow! È un trampolino! Salterò più in alto! Ha funzionato! Ok, rimettiamo le gambe a posto! Attimo! Il tempo sta per scadere! Troppo facile! Quante possibilità ci sono che sia una trappola! Ce l'ho fatta! Oh, no! No, 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 no! Ai! Il mio occhio! Attacco le braccia! Fantastico! Oh, no! Non ho più tempo! Bulla, fermati! Dammi la testa! Sono disperata! È mia! Ha funzionato! Tutti i pezzi di Zubol sono al loro posto! Oh! Io me ne vado! Ce l'ho fatta! Guarda, ci stanno filmando! Ehi, tu! Vieni, fai un primo piano! Solo a me! Ecco la mia uscita! Spostati! Sono pronto! Benvenuto, Jax! Questa sarà la tua sfida personale! Sono pronto! Cosa devo fare? Beh, addio! Mamma mia! Pizza, pasta, Lamborghini! Oh, mi scusi! Bellissimo le prottine! Perfetto! Sediti, per favore! Lascia che ti sistemi! La cena sarà meravigliosa! Wow! Insaporiamo il tutto con le erbe? Oh, è un amore! Che succede? Oh, mi scusi! Mi sono fatto prendere dal momento! No! Miam, miam! Che cos'è? La portata principale! Coniglio! Meglio andare! Oh, amore mio! Ci vuole la salsa alla panna! Amore mio! Non hai il mio permesso! Oh, oh! Buongiorno! Coniglietto mio? Che succede? Fermi! Guarda cosa c'è qui! No, no! Per l'amor del cielo! Bang! Oh, il mio cuore! Di più! No! Mamma mia! Gli spaghetti sono morti! Bella pizza! Pizza buonissima! Ops! Adanas! Oh, sei così cattivo! E così? Ottimo panino! Mi si spezza il cuore per questa tortuga! Oh, sì! Ho vinto! Ai! È tutto a posto! Oh! La mia porta! Toc, toc! C'è qualcuno in casa? Ho detto! Apriti subito! Ai! Non uscirò mai da qui! Chi è? Per favore! Fammi entrare! Santo cielo! Cos'è questo? Devo mettere insieme un nome? Fokmo? No! Sei sicuro? Ok, e questo? Mofko? Sicuro che non sia il tuo nome? Oh, sì! In questo caso... Kofmo! Va bene così? Cavolo! Ai! Ma sei pazzo! Ouch! Oh, sei qui! Fantastico! Sei Pomni? Sì! Bene! E chi è quel ragazzo? Il re dei conigli? Un attimo! Non ti credo! È Jax! Ehi tu! Non sopporto queste bugie! Visto che ti piacciono così tanto le trasformazioni! Eccone un'altra! What? Oh-oh! No, no, Pomni! Non ho ancora finito con te! Vediamo di cosa hai paura! Oh, no, 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 no! Signore e signori! State per assistere alla battaglia del secolo! Abbiamo la mamma nell'angolo destro! Ehi, piccola! Mamma! E papà nell'angolo sinistro del ring! Ehi, piccola! Papà! La lotta dei genitori è iniziata! Primo round! Oh, no! Vi prego, non fatelo! Qual è il tuo problema, razza di sciattone? Che problema hai tu, maniac del controllo? Basta, per favore! Ecco di cosa hanno bisogno! Bolle d'amore! Bolle d'amore! Bolle d'amore! Bolle d'amore! Bolle d'amore! Bolle d'amore! Ah, tesoro! Oh, amore mio! Ti voglio bene! Anch'io ti voglio bene! Oh, dove sono finiti? Non è giusto! ecco la porta raga, hai visto i miei bicipiti? ehi, Pommy, ce l'hai fatta? attimo lavoro, sono così felice una porta è la via d'uscita pervi, dove andate? scordatevi di uscire ragazzi, non gli avete dato 20.000 like il che significa che resterà a noi signore, ci penso io a lui che succede? è una nuova avventura per tutti una sfida di ballo ragazzi, agitate i fianchi che cos'è? ehi, guarda dobbiamo fare quello? non ce la faccio più è sufficiente così? no, lo spettacolo deve andare avanti ecco la nuova sfida aiuto, sono bloccata che ti credi di essere? io dirigo questo posto farete tutto quello che vi dico io il mio circo le mie scimmie amico, stai delirando oh, bambola nascondimi io non posso andare avanti così non puoi nasconderti ops coniglietto sciacca dove sono? Jax dove è andato? sei la prossima Pommy attenta nooo aiuto nessuno ti salverà ora run ehi, tu ma certo il mio tablet dove diavolo è? piccola posso trovarti ovunque digital circus cancella ma che hai fatto? nooo ha funzionato e adesso? sta scomparendo tutto anche io? ma che succede? sono stato davvero ammesso al college è una follia ora sono ban ban fantastico chi c'è qui? ehi nooo vieni con me dove sono finita? ti va di giocare? nooo per favore preparati a diventare un mostro nooo cosa? no 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 ban ban non lo farai cosa? tu sei meglio di così ban ban non è sempre stato cattivo in realtà è gentile ho ragione ecco la sua storia è ora di pranzo il mio delizioso panino ah devi ridurre il glutine quel panino sarà mio perdente non importa ecco il mio panino buon appetito wow ah sei tu ban ban i pannini strambalati non fanno per me che maleducata che sei oh dimenticavo cosa? stanno facendo i bulli è una follia vi darò una lezione brutti bulli sei molto più grande di lui così non va bene tutto bene ora? ma noi stavamo giocando non puoi evitare di rovinare tutto ban ban ma sei vittima di bullismo com'è possibile? hey spiegato prenditi una pausa nel ripostiglio coniglio sono stati gli anni peggiori della mia vita mi dispiace tanto devo uscire da qui cosa? è da maleducati allontanarsi nel bel mezzo di una conversazione devo andare fermati devo finire la mia storia è così infantile prendete un po' di tè sedetevi la storia continua dove eravamo? il nostro ban ban è cresciuto un po' eppure è stato il più grande perdente del college perdente! ogni singolo giorno è un po' di tè è un po' di tè